Adesso mi sentite? Sì, prego, Presidente. Ok, grazie, buonasera, buonasera a tutti, saluto Andy Bertolin e lo ringrazio per aver condiviso la stagione dei webinar della OI, ma soprattutto per aver condiviso con tutti noi, in maniera particolare con me, un argomento che gli sta particolarmente a cuore, che sta a cuore anche a me, perché siamo, come dire, collegati da un comune amore che ci ha unito, la Scuola di Vittorio Veneto, e quindi quando si parla di laringe non si può non nominare un centro di riferimento internazionale così importante che poi Andy Bertolin ogni anno completa con uno splendido, come dire, congresso corso dove invita figure autorevoli in campo internazionale, ma per grande competenza sull'argomento. Quindi sono particolarmente contento di poterlo presentare perché ho visto una crescita così considerevole. Oggi è un leader assoluto, non solo come primario, diciamo un giovane, ormai meno giovane primario, ma che comunque ha nel suo gruppo tanti ragazzi appassionati. Io posso confermare anch'io di avere un bellissimo gruppo e a breve spero di avere un altro bellissimo gruppo di giovani dove insieme possiamo in qualche modo condividere scelte e soprattutto strategie che è con un argomento, ripeto, che ci appassiona, la chirurgia oncologica laringea. E questo sono particolarmente contento ed essere, come dire, rappresentare con i tanti colleghi nuove strategie. E quindi ad Endi io gli faccio un in bocca al lupo per tutto e in qualche modo lo ringrazio. E devo anche dire a tutti quanti che ci sentono e che stanno in ascolto che i webinar della OI stanno avendo un particolare successo perché cerchiamo di, come dire, di selezionare argomenti che appassionano enormemente tutti i colleghi e di questo è un dato di fatto. Ringrazio Pasquale Capasso e Vincenzo della Peruta, Ezio, detto Ezio per gli amici, che sta con me da un po' di anni e passo a loro la parola e soprattutto consentitevi un ringraziamento particolare al dottor Domenico Di Maria che non solo è consigliere OI ma presidente del gruppo Campano che ci onora della sua grande, come dire, presenza e ci semplifica molto situazioni particolari come queste con collegamenti che, vedete, sono veramente particolarmente ben funzionanti però mi fa piacere dirlo a costo zero, nemmeno un euro. E questo bisogna dare atto e lo ringraziamo tutti. Grazie a voi, passo la parola ai scassanti. Parto io, Ezio? Vai, vai, Pasquale. Vai, parto io con i ringraziamenti al presidente perché poi Cicero Prodomo Sua so che sono scontati anche per te. Io voglio ringraziare il presidente Tortoriello per la possibilità che sta dando a dei giovani sia per relazionare argomenti di tale complessità sia anche la possibilità di fare da discassante. Quindi sono momenti di crescita importanti e è un piacere avere con me Ezio ma soprattutto il dottore Bertolin, il mio amico Andy che effettivamente, come ha detto il presidente sicuramente ci darà qualche messaggio da portare a casa definitivo per ciò che riguarda l'ingeptomia ricostruttiva. Anche io ringrazio Domenico Di Maria, Mimmo, per tutti gli amici perché veramente il costo zero è significativo e è una cosa importante per la OIE di cui io faccio parte con molto onore. Anche io come consigliere direttivo posso dire che i webinar di quest'anno hanno raggiunto un livello talmente alto che andrebbero registrati e messi a disposizione. So che ci si sta adoperando per questo perché questa è proprio vera formazione online a tutti gli effetti. Niente, non vorrei dire nient'altro perché vorrei conservare tutto il tempo per fare le domande alla fine ai discassanti. Passo la parola quindi a Ezio che insieme a me fa questa moderazione che sicuramente non si limiterà a questo. Grazie a Ezio, grazie mille per avermi introdotto e grazie anche al mio primario, il professore d'Ortoriello. Sono onorato anche in qualità di essere un giovane autorino a partecipare in qualità di moderatore a questo bel evento e soprattutto a discutere di un argomento a noi molto caro che è appunto l'ingectomia ricostruttiva che sarà presentata in maniera magistrale sicuramente da Endi che appunto ha ereditato un fardello bello importante ma molto prestigioso della scuola di Vittorio Veneto. A tal proposito vorrei introdurre l'argomento portando qualche cenno storico e diciamo anche una discussione iniziale su il discorso del TNM che lo stesso Endi negli anni precedenti ha affrontato come argomento. Un attimo che faccio partire il video. Si vede? Si vede? Ok. Si vede perfettamente. Allora, partendo un poco da alcuni scendi storici dell'anjectomia come ben sappiamo l'anjectomia parte tutto come intervento di l'anjectomia totale ideato dal BIROT perfezionato in seguito dai chirurghi Gluck e Sorensen alla fine del 1800. Ma come ben sappiamo l'anjectomia totale ha due considerazioni da fare in particolar modo. Una è sicuramente la presenza dell'astomia persistente, permanente e l'altra invece è il sacrificio d'organo. Quindi con la malattia, la morte del principe Federico III di Prussia cominciarono comunque a sensibilizzarsi nel mondo scientifico basandosi appunto su come mai un re che ha regnato solo per 99 giorni non è stato trattato allora con la migliore cura che era l'anjectomia totale perché appunto il re rifiutò di essere flagellato dall'astomia permanente e dal fatto che comunque non avrebbe potuto parlare al suo popolo e da lì appunto si susseguirono in base alle preferenze e ideologie del tempo diverse tecniche chirurgiche si basavano sulla anjectomia verticale ideate soprattutto inizialmente dallo stesso BIROT e perforzionate in seguito con una frontolaterale che è quella di Leroux-Robert e poi partendo dagli studi di Ruvier e radiologici di Bacless si passò praticamente ad ideare l'intervento di l'anjectomia orizzontale sovraglottica grazie a un chirurgo uruguaggio che era il dottore Alonso dopodiché furono ancora di più perfezionati questi interventi chirurgici grazie anche alla scuola italiana con il professore Bocca che allargò l'indicazione ad altre strutture laringee si passò dopodiché al concetto di sopracricoidee quindi con Mayer, con Piquet e con Labbeil che prevedevano appunto il sacrificio della cartilagine tiroidea e di unità che lo stesso Serafini invece andò a estremizzare nel concetto nel 1970 di l'anjectomia sopra tracheale ma questo intervento fu ulteriormente perfezionato e portato avanti dal suo allievo che è il professore Rizzotto nonché appunto maestro sia del mio primario sia del dottor Bertolin il quale appunto ideò il discorso dell'unità crico-tiro-aridenodea che era il motore stesso della ricostruttiva da lì appunto è nato l'approccio modulare cioè praticamente la suddivisione dell'anjectomia parziale in tre diversi tipi di moduli in base alla resezione inferiore partendo da una corretta estradiazione che per noi giovani chirurghi deve essere l'ABC quotidiano in particolar modo voglio citare questo lavoro che lo stesso Andy ha diciamo è stato fra gli autori insieme al suo maestro e in cui appunto lo stadio T3 e T4 sono protagonisti in che senso? perché appunto la famiglia dei T3 e T4 hanno una eterogenità di base come stadiazione come ben sappiamo invece il TNM sia quello americano sia quello europeo lo suddivide in delle piccole entità ma in realtà secondo anche questo schema ideato dal professore Piazza il T3 è una famiglia allargata mentre il T4 è una bad family dove c'è una eterogenità di tutto un quadro stadiativo che deve essere affrontato in maniera specifica in base a dove è presente il tumore allorché ancora di più il concetto è stato estremizzato e aiutato dal piano magico che è questa linea che suddivide i tumori presenti nella porzione anteriore e posteriore della laringe sempre qui comunque il gruppo di Vittorio Veneto insieme al professore Succo ha ideato questa linea e si è diviso appunto il tumore in base a dove è presente se anteriormente o posteriormente questo ha portato come potete vedere a delle categorie che facilitano l'affrontare questo tipo di patologia dove un tumore anteriore T3 ha degli outcome oncologici belli importanti con valori in successo altissimi invece dobbiamo stare molto più attenti nel caso in cui ci sono le categorie 2 e 3 c'è un tumore anteriore T4 con aritenoide mobile e nel momento in cui abbiamo un tumore che si estende posteriormente alla linea con addirittura un'aritenoide fissa dobbiamo fare molta attenzione nel momento in cui il tumore è posteriore c'è un'essenificazione extra laringea con aritenoide fissa il tutto praticamente cosa ci deve portare a osservare che questi lavori hanno dato comunque una grande importanza scientifica all'injectomia ricostruttiva che tra gli anni 90 e inizi 2000 stava perdendo valore questo è testimoniato dal fatto che nel 2012 per i tumori T1, T2 e T3 selezionati c'era una evidenza scientifica di raccomandazione di grado 5 dopo tre anni, dopo l'uscita di alcuni di questi lavori l'evidenza scientifica è passata da un grado 5 a un grado 2A e questo dobbiamo ringraziare appunto sia la scuola di Vittorio Veneto sia il professore Succo che ha dato una valenza importante a questa tecnica chirurgica e con questo do la parola al dottor Bertolini vai Andy grazie per l'introduzione, grazie Pasquale anche a te per le belle parole permettetemi anche a me di spendere solo 30 secondi per ringraziare la OI e per ringraziare il presidente Aoi il presidente è un amico, vi è un legame o te che scientifico in Cizza che nasce con il mio maestro e quindi c'è un affetto che possiamo dire unico è una collaborazione che continua e sono contento di partecipare a questo evento perché faccio parte della famiglia della OI come Pasquale da diversi anni che apparteniamo al consiglio direttivo e quindi è un onore ed è un dovere partecipare a questi eventi ringrazio il COSFA che è un braccio scientifico che sta lavorando molto in questi anni per organizzare questi eventi scientifici che sono molto molto importanti per la nostra associazione ringrazio il gruppo giovani che sta dando una notevole spinta a tutta l'attività scientifica in maniera divulgativa e in maniera importante condivido il mio schermo, se date un segno di conferma che state vedendo le mie slide benissimo, ho fatto una piccola modifica al titolo che si chiama l'aringetomia ricostruttiva OPHL 2023, l'ho chiamata perché comunque ci sono degli update in questa nuova presentazione che io andrò a mostrarvi in questi 40 minuti che dedicherò per questo argomento che è un argomento che ho condiviso con Giovanni Succo in dieci anni di collaborazione scientifica e quindi le notizie che vi darò sono frutto di un lavoro di cooperazione scientifica effettuato in questi anni ho diviso la presentazione in due parti una parte iniziale diciamo più, chiamiamola filosofica affrontando alcuni topic, alcuni concetti e una seconda parte invece un po' più tecnica che può interessare magari chi più è interessato alle technicalities le linee sono importanti perché ci sono delle grosse novità che lo hanno, se andiamo a vedere le linee guida in CCN e prendiamo in considerazione il piano glottico perché è lì che si gioca la partita importante nel piano intermedio i tumori sovraglottici sono abbastanza chiari hanno una loro fisiologia il campo di discussione è molto limitato i tumori sottoglottici praticamente non esistono sono sempre tumori che dalla glottide scendono in regione sottoglottica ma in questo piano intermedio e tutti i tumori che corrono lungo questo piano intermedio che sono il grosso argomento di discussione le linee guida internazionali T1, T2 e attenzione, selezionati T3 possiamo fare tutto dalla chirurgia endoscopica dalla chirurgia parziale conservativa alla radioterapia però attenzione, fra i T3 ci sono anche attenzione che ci sono dei T3 che richiedono laringettomia truppe allora qui comincia il momento della confusione perché se domani noi vediamo un T3 della laringe possiamo fare chirurgia parziale open chirurgia endoscopica terapia laringettomia e quindi si entra a livello della europea laringologica sociale stiamo creando un comitato scientifico appunto per la valutazione e cercare di chiarire il trattamento del T3 che è il punto critico quando si parla di chirurgia conservativa della laringe risposte che cercherò di darvi nei prossimi minuti e poi attenzione quando si pensa al T4A fino a pochi mesi fa si pensava al tumore cattivo non c'è discussione T4A della laringe laringettomia totale più radioterapia attenzione che però cominciano ad emergere dei trial clinici dove si comincia a considerare la possibilità di effettuare dei protocolli di preservazione della funzionalità laringente in termini chirurgici cosa che abbiamo visto in questi anni che non tutti i T4A devono essere necessariamente trattati con una laringettomia totale le domandazioni cosa dicono per farla breve T1 e T2 non si deve mai proporre una laringettomia totale ma sempre un intento conservativo di conservazione della funzionalità è che sia T1 che T2 possono essere trattati allo stesso modo sia con chirurgia che con radioterapia con stesso outcome da un punto di vista oncologico e funzionale però attenzione che nel lungo periodo i pazienti che sono stati su radioterapia molti di loro perdono questa laringe non per motivi oncologici ma per motivi funzionali e nella nostra pratica quotidiana la prototerapia tanti anni prima arrivano e cominciano ad essere disfagici problematiche respiratorie sono laringi che si addormentano e quindi sono laringi che si perdono per motivi funzionali cosa che la chirurgia non dà ebbene quindi questo è un concetto molto importante dalle raccomandazioni è che ogni volta che noi facciamo una proposta chirurgica conservata dobbiamo essere sicuri che i margini siano negativi cioè effettuare un intervento conservativo col margine positivo e dire beh facciamo un po' di radioterapia questo è un errore che non ce lo possiamo permettere al giorno d'oggi la chirurgia conservativa deve essere su margini sani poi capita sempre l'errore e l'errore lo possiamo recuperare e di solito l'errore va recuperato con un second look chirurgico quale esso sia il multiplo approccio lo dobbiamo fare all'inizio non per tampare le difficoltà e questo momento del tumore radio ricorrente delle ricidive dopo radioterapia gli americani guardano a noi chirurghi conservativi della laringe perché anni e anni di protocolli di preservazione d'organo di radioterapie stanno comportando un enorme numero di recidive di persistenze e quindi i popoli anglosassoni dicono beh piuttosto che peggio è meglio il piuttosto e quindi piuttosto che offrire la laringeotomia totale attenzione perché ci sono gli europei ci sono i sud europei che siamo fondamentalmente noi che abbiamo la leadership a livello internazionale sul comodo cominciano ad essere interessati e vogliono imparare questa chirurgia stanno facendo un passo indietro perché vedono la possibilità di poter di protocolli di chirurgia la laringea la chirurgia laser transorale la chirurgia parziale è un tempo di chirurghi open e grandi chirurghi laser e c'era una competizione fra i due per il punto diciamo onesti dell'esistenza intellettuale il chirurgo open tende sempre a tirare verso di sé l'indicazione un grande punto tende a siungere forse eccessivamente l'indicazione i chirurghi moderni il presidente Tortorello è uno di quelli hanno in mano le skills per poter fare sia una chirurgia open sia una chirurgia laser transorale ed è lui che lo decide non ha nessun interesse lui a spingere da una parte o dall'altra ma offre la migliore opportunità in quel momento per il paziente quindi questa è una grande evoluzione del concetto della modulabilità degli interventi e il borderline l'indicazione fra la chirurgia endoscopica la chirurgia open e quando c'è l'involgimento della commissura anteriore i tumori condurali anteriori che possono essere interessati in maniera verticale in senso cranico con un'indicazione alla chirurgia per via esterna tumori invece che hanno un coinvolgimento diciamo trasversale orizzontale della commissura per i quali è più indicato quindi ecco c'è qualche problemino con la tua connessione ogni tanto la tua connessione si blocca concetti importanti non è fluida provo a continuare così eventualmente fatemi un cenno con il dito ti perdiamo ogni tanto la connessione non è fluida allora provo a togliere un attimo scusatemi un attimo provo a togliere il video il video che è meno pesante fatemi un cenno se si se riuscite a seguirmi quindi va bene fondamentalmente come dicevo le due le due armi devono essere utilizzate con la mano destra e con la mano sinistra nella stessa maniera quindi questo è un concetto molto importante quando si affronta la chirurgia conservativa della laringe la chirurgia conservativa sta vivendo un rinascimento c'è un grosso interesse negli ultimi anni negli ultimi dieci anni ci sono tantissime pubblicazioni internazionali sulla chirurgia conservativa della laringe e questo rinascimento nasce da un forte lavoro che è stato fatto da un punto di vista scientifico pensi alla la rigidità nella selezione dei pazienti ai concetti di radicalità della chirurgia conservativa e non dimentichiamoci della della riabilitazione della parte riabilitativa che è elemento fondamentale importante non basta operare il paziente ma bisogna saperlo operare e riabilitare anche poi nel post-operatorio altro punto fondamentale è il work up diagnostico mi sentite tutto normale molto meglio molto meglio il work up è fondamentale per una votazione funzionale ed anatomica della laringe funzionale la laringe si muove ed è sotto gli occhi di tutti come ha accennato prima bene Ezio che la motilità della corda vocale e la ritenoide sono concetti determinanti nel capire se si può effettuare una chirurgia conservativa della laringe possiamo avere situazioni in cui c'è il tumore ma sia la ritenoide che la corda vocale sono situazioni in cui c'è la malattia la corda vocale si muove poco ma la ritenoide è ancora mobile e quindi una situazione ancora diversa da un punto di vista clinico e dell'indicazione chirurgica come anche tumori in cui c'è un blocco della motilità della corda vocale e la ritenoide comincia ad essere un pochino mobile fino anche a situazioni in cui non si muove nella corda vocale e non si muove nemmeno la ritenoide e ognuna di queste situazioni implica uno scenario chirurgico che è completamente diverso l'uno dall'altro è molto soggettiva la determinazione dell'ipomotilità della corda vocale il professor Piazza ci sta lavorando in in questi mesi in questi mesi è un'idea speciale per obiettivare la motilità delle corde vocali della ritenoide perché per me può sembrare una corda vocale una ritenoide ipomobile la vede il mio collega e dice ma secondo me invece si muove e non ci sono problemi ok quindi cercare di obiettivare con dei parametri diciamo obiettivi oggettivi il lavoro che si sta cercando di fare ovviamente anche le conoscenze anatomiche la valutazione di determinati punti critici che sono il fondo del ventricolo la regione sottoglottica la commissione ulteriore tutti quei sottosquadri nascosti della laringe che sono determinanti nella decisione della chirurgia conservativa ovviamente la tecnologia ci viene incontro ad esempio l'utilizzo della bioendoscopia dei vari spettri di luce che si possono utilizzare sia a livello ambulatoriale ma non si può prescindere dal giorno d'oggi dall'utilizzo delle ottiche rigide intraoperatorie cioè la stadiazione al giorno d'oggi non si può sbagliare abbiamo a disposizione tutti i mezzi per poter fare una stadiazione corretta sia da un punto di vista endoscopico che anche da un punto di vista dell'imaging l'altro punto importante è la selezione selezionare 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 correttamente i pazienti attorno alla laringe e attorno al tumore della laringe c'è l'uomo ovviamente ci sono degli elementi che non sono delle controindicazioni assolute ma possono complicare molto il percorso del post-operatorio del paziente se ci sono severe comorbidità ma anche ad esempio fallimenti dopo chemioradio noi siamo stati testimoni negli anni scorsi di tentativi di chirurgia conservativa della laringe dopo fallimento di chemioradio abbiamo avuto dei risultati molto molto scadenti e spiacevoli delle sconfitte enormi siamo stati costretti a fare un passo indietro e quindi fallimenti dopo preservazione della funzionalità laringea dopo chemioradio che sono tumori che partono già ma con uno stadio intermedio avanzato sono recuperabili solo con la ringettomia totale tumori invece che partono nel stadio iniziale dopo fallimento di radioterapia sono ben recuperabili con la chirurgia parziale l'età è importante l'età si sta spostando sempre più in alto tenendo in considerazione le performance cardiopolmonari del paziente gli americani dicono dovete chiedere al paziente se riesce a fare due piani di scale senza avere il fiatone perché questo significa che ha delle performance cardiopolmonari buone che permettono anche di poter gestire problematiche di inalazione nel post-operatorio e l'età importante la cosa che ci preoccupa di più da un punto di vista funzionale è sempre l'inalazione e la bingeestis ed entrano in gioco l'età la tipologia dell'intervento più siamo demolitivi più nell'ambito conservativo più rischiamo da un punto di vista della bingeestis ovviamente bisogna stare attenti anche da un punto di vista tecnico a non commettere degli errori perché ogni passaggio tecnico della chirurgia conservativa della laringe ha un suo perché piccoli errori possono creare una concatenazione poi di problematiche che sono difficilmente risolvibili e come ci piace far vedere Richard Gere che mi sembra che abbia sui 74-75 anni ecco non ho il suo fascicolo sanitario elettronico sotto mano però lo diamo per una persona san e performante non possiamo se le condizioni cliniche sono buone non poter proporre a persone così una chirurgia conservativa al di là dell'età ho messo il cappello così in onore del nostro maestro perché si dice sempre che la carriera del chirurgo è fra il primo periodo in cui si impara ad operare il secondo periodo si impara quando si deve operare e poi c'è il periodo diciamo dell'anzianità in termini di esperienza in cui si capisce quando è meglio lasciar perdere e allora questo uomo nella sua esperienza ha detto in maniera chiara ragazzi ci sono delle situazioni in cui per quanto vogliamo essere conservativi non lo possiamo fare perché non possiamo far rischiare la vita al paziente quindi tumori che vanno verso la base della lingua tumori che infiltrano l'ossoioide l'ossoioide è il nostro architrave portante nella chirurgia conservativa poi si sono anche interventi conservativi rimuovendo l'ossoioide quindi facendo interventi di tireo glossopessia però ecco è meglio lasciar perdere esperimenti di questo tipo oppure ovviamente tumori che interessano entrambe le ritenoidi o larghe infiltrazioni extra laringee il rosso è l'n più perché uno dice ma se hai un n positivo si può fare la chirurgia conservativa oppure è meglio lasciar perdere questo argomento di discussione cioè questo implica a volte dover proporre la radioterapia dopo chirurgia parziale della laringe è un argomento sul quale noi possiamo discutere ma non è al momento una controindicazione assoluta come è stato detto c'è l'uomo ma c'è anche la malattia e si sta scardinando un po' il concetto del TNM T1 T2 T3 T4 cioè si sta entrando verso il concetto che se il tumore è anteriore è un tumore buono davanti alla linea al processo vocale dell'aritenoide perché è un tumore prognosticamente più favorevole anche se ci fai la chemioradio a questi vanno meglio rispetto ai tumori posteriori ok il tumore posteriore significa un tumore che va al di là di questa linea che ha un'infiltrazione posteriore e uno stietro ma va oltre questa linea e va in questo spazio picoloso che è lo spazio paraglottico inferiore posteriormente qua quindi sono le sottocategorie che vanno consigliate i T3 anteriori che sono quelli che vanno meglio da un punto di vista oncologico e funzionale ci sono i T3 posteriori che uno dice ma è un T3 però questi sono T3 molto cattivi e sono quelli prognosticamente più sfavorevoli e sono quelli per i quali non sappiamo bene se la soluzione migliore è una chirurgia conservativa se fare una chemioradio o se è meglio fare una laringettomia totale invece questi che sono i T4 anteriori nonostante lo chiamiamo T4 è un tumore più buono rispetto al T3 posteriore quindi si capisce che stiamo chiamando i tumori perché siamo stati così abbiamo imparato l'alfabeto in un determinato modo ma molto probabilmente il T4A anteriore non è un T4A è un qualcosa di meno e molto probabilmente il T3 posteriore non è un T3 è un qualcosa di più bisognerà dargli un nome giusto e poi ci sono i T4 posteriori ma là insomma tutto è possibile però sappiamo che i spazi per la chirurgia conservativa non ce ne sono come dicevo l'interessamento posteriore della malattia il blocco della motilità o dell'ipomotilità dell'aritenoide è un concetto fondamentale abbiamo definito nell'ultimo periodo quattro pattern stiamo definendo di diffissità dell'aritenoide perché l'aritenoide si può fissare perché vi è un effetto massa cioè la malattia spinge sull'aritenoide quindi la blocca ci può essere un'infiltrazione diciamo dello spazio paraglottico posteriormente inferiormente ma con un'estensione sottoglottica meno di un centimetro come ci sono anche delle infiltrazioni posteriori con estensioni sottoglottiche maggiore di un centimetro come anche ci sono infiltrazioni massive dello spazio paraglottico posteriore stiamo identificando queste quattro sottocategorie che ovviamente possono dare delle uno spettro di alternative chirurgiche che sono diverse da l'aritenoide dobbiamo lavorare tutti assieme e cercare di capire bene e di renderci conto che cosa vuol dire corda vocale che si muove poco non si muove o si muove e aritenoide che si muove poco non si muove e quindi stiamo lavorando in questo senso lavorando per sottocategorie e cercando di obiettivare quello che è la loro motilità quindi ricordatevi concetto fondamentale i T3 anteriori è sempre un orso però un orso buono il T3 è un orso molto più cattivo è fondamentale l'imaging il link con il radiologo non entro nei concetti nei dettagli però ecco questo è un elenco che uno deve fargli la foto col telefonino adesso sullo schermo se ha la possibilità e sono le cose che bisogna chiedere al radiologo se voi chiedete questo riuscite a capire la possibilità di fare una chirurgia conservativa oppure no leggiamo dei referti in cui c'è il tumore nella laringe e il referto dice a simmetria delle strutture faringo-laringe qualche linfonodo ipertrofico ecco noi dobbiamo vedere se lo spazio pre-pigliottico è infiltrato sì o no dobbiamo vedere se l'osso iodo è interessato sì o no dobbiamo vedere gli spazi paraglottici superiori che significa quindi di lato alle false corde inferiori di lato alle corde vocali vere dobbiamo chiedergli se è infiltrata la cartilagine tiroidea non si menziona nel TNM la cartilagine cricoide quindi questo è un altro punto un'altra criticità del TNM della laringe la commissura anteriore ovviamente sappiamo che la dobbiamo attenzionare l'interessamento poi anche della malattia al di fuori della laringe quindi l'interessamento del linfonodo delfico e l'interessamento dei linfonodi del collo questi sono i punti fondamentali e sono i punti e l'esercizio che uno deve fare sia che sia stata fatta un'attacca sia che sia stata eseguita una risonanza magnetica bisogna vedere questi punti fondamentali e poi prima di passare alla seconda parte l'ultimo concetto della prima parte filosofica della mia presentazione è la forza di una classificazione questo uomo che è stato il professor Antonelli che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere che ho visto diverse volte Vittorio Veneto che era un grande amico di Serafini ebbe l'intuito di creare di dare i parametri di una classificazione e questo ha permesso di introdurre il concetto di modulabilità dell'intervento cioè noi abbiamo dodici interventi diversi di chirurgia conservativa della laringe e non andiamo per i concetti precostituiti a seconda di dove va la malattia e intraoperatoriamente io deciderò il tipo di intervento che deve essere fatto non è che il chirurgo decide prima sappiamo più o meno l'intervento che andremo a fare però sarà la malattia che ci guida sempre pur rimanendo nell'ambito della conservatività e a volte non solo purtroppo che tipo di intervento è la seconda parte invece della mia relazione è quella più sui tecnicismi no? perché la tecnica la tecnica è importante gli accorgimenti i dettagli tecnici vedrete una serie di immagini io percorro in cinque minuti una chirurgia parziale tipica della laringe dicendovi quelli che ho messo i punti fondamentali a partire da un'incisione cutanea che va sempre a comprendere nella nostra esperienza il tracheostoma non facciamo mai un tracheostoma separato ma lungo la linea di incisione dopodiché cosa fare dei muscoli i muscoli si possono conservare i muscoli si possono togliere da un punto di vista funzionale l'outcome è completamente lo stesso non ci sono cambi da un punto di vista funzionale noi togliamo sempre i muscoli per aprire meglio il campo ovviamente va sempre preservato il concetto dell'oncologico cioè se il tumore esce dalla laringe non ci si pone nemmeno il problema di conservare i muscoli vanno sempre rimossi se il tumore è endolaringero ci si può porre il problema di conservare i muscoli ciò che cambia è la fase di rafforzamento della pessia se i muscoli sono stati rimossi andrà utilizzata la ghiandola tiroide che a nostro modo permette di impacchettare e di rafforzare meglio la pessia rispetto ai muscoli che fanno solamente una copertura ma non vanno ad accompagnare l'asse laringotracheale nei suoi movimenti durante la deglutizione va isolata questa ghiandola tiroide e poi vanno rimossi i linfonodi parapracheali a Vittorio Veneto la stragrande maggioranza degli insuccessi della chirurgia conservativa della laringe perché i 50 anni e più forse anche quasi i 50 anni dei tempi di Serbini i più grandi successi della chirurgia conservativa non sono mai endolaringei ma sono sempre paralaringei sono tumori che o escono dalla laringe oppure sono delle piccole metastasi che vanno su quell'infonodi su quell'infonodi paralaringei fate una PET e una lampadina si accende subito esternamente la laringe operata quindi vanno su quell'infonodi parapracheali dal lato ovviamente ammalato dove anche ci sono meno rischi da un punto di vista funzionale perché è il lato dove noi andiamo a rimuovere l'aritenoide e quindi anche togliere e resecare il nervo ricorrente da quel lato non comporta nessun danno da un punto di vista funzionale quindi è mandatorio fare sempre una pulizia di questa regione va sempre fatto un bel release tracheale un buon pull up dell'asse laringotracheale perché la laringe e la trachea devono salire e poi la base della lingua deve scendere va sezionato il costrittore inferiore il muscolo costrittore inferiore lo si può fare con la fibra laser lo si può fare con il bisturio elettrico quelle sono abitudini poco importanti e va preservato il ramo interno del nervo laringeo superiore che raccoglie la sensibilità delle piglottide sovraidea e del seno piriforme omolaterali andando a legare quello che è il peduncolo vascolare laringeo superiore va conservata il più possibile la mucosa del seno piriforme andando a staccare a svincolare la parte endolaringea quindi la parte viscerale dalla parte cartilaginea della laringe dopodiché molto importante la sezione del corno inferiore della cartilagine tiroidea andando a proteggere quello che è il nervo ricorrente che passa subito sotto il corno inferiore della cartilagine tiroidea ovviamente importante per la preservazione della motilità e si entra nella laringe con un accesso superiore e poi un accesso inferiore e dopodiché bisogna aprire la laringe immaginandoci mettendoci in alto dall'alto verso il basso e si entra dal lato sano questa è la corda vocale destra che è una corda vocale ammalata questa è la corda vocale sana e piano piano dall'alto verso il basso seziono il terzo posteriore della falsa corda della corda vocale vera dell'ipoglottide e si apre la laringe e questa è una laringe aperta vista da sinistra questa è la cricoide questo è il processo vocale dell'aritenoide sinistra il terzo posteriore della banda qua ci sta l'ipiglottide con lo spazio pre-ipiglottico la malattia sta qui glottico e poi la destra se voglio conservare l'aritenoide destra devo fare una sezione di questo tipo conservando questa aritenoide lascerei un margine positivo quindi devo resecare completamente questa aritenoide per effettuare un intervento oncologicamente sicuro infilando un dito all'interno del seno piriforme e andando a staccare l'articolazione crico-aritenoidea e andando a pelare la mucosa del seno piriforme questa è l'aritenoide e la sua giurazione staccata dal cricoide e il guanto del chirurgo attraverso la mucosa del seno piriforme e si va a trasportare l'aritenoide ed è importante poi i margini come ho detto al congelatore durante la fase di resezione perché quello è determinante poi per sapere se possiamo effettuare una chirurgia conservativa la tracheostomia non è mai una tracheotomia i punti vanno alle gala acute 5 punti sotto 3 punti sopra questo è importante perché ci permette poi anche di decanulare il paziente di fare tutta quella riabilitazione senza la candora e dopo si va a ricostruire quella mucosa che avevamo conservato del seno piriforme va ribaltata verso il basso e si va a ricostruire un nuovo seno piriforme e ci si avvia verso la pessia con un punto centrale doppio che prende la cricoide che va verso l'alto a prendere l'epiglottide non in maniera transfissa ma posteriormente attraverso lo spazio preepiglottico prendendo due bei centimetri della base della lingua e poi dei punti laterali che vanno a fissare sempre la cricoide a quella che è l'epiglottide alla base della lingua poi si possono mettere dei punti laterali per tenere aperto il seno piriforme o altro ma sono dettagli tecnici poco importanti una volta che abbiamo chiuso la nostra via aerea in questo modo questa ghiandola tiroide che abbiamo mobilizzato andrà diciamo a impacchettare la nostra scusate la nostra pessia e quindi a rendere diciamo funzionalmente più sicuro l'intervento in regime di post operatorio questo è il pezzo operatorio che abbiamo rimosso e poi è finito quindi questi questi passaggi tecnici sono importanti ed hanno tutti un loro valore perché se facciamo tutti questi passaggi in maniera regolare l'outcome funzionale ed oncologico è sempre buono ed abbiamo imparato grazie a questo personaggio questo è Steiner che è stato il padre della chirurgia endoscopica laser ed è stato lui a introdurre il concetto di modulabilità cioè lui andava in sala operatoria non sapeva bene l'intervento che faceva lui tagliava il tumore a metà e poi decideva il tipo di resezione da fare e noi stiamo diciamo ampliando il concetto della modulabilità vedendo il tumore com'è e decidendo il tipo di intervento da fare mi sentite? tutto regolare Pasquale? Andy forte e chiaro vai mi avvio verso la parte conclusiva quindi non preoccupatevi quindi non ci metterò ancora tantissimo ci sono dei dati oncologici Vinit Palli che verrà a Vittorio Veneto che è uno un inglese che verrà a Vittorio Veneto a novembre già diversi anni fa prende in considerazione con una review importante di più di 55 lavori tutte le chirurgie e tutti i dati della chirurgia parziale della laringe al mondo i dati così crudi dicono che controllo locale 90% sopravvivenza a lungo termine 80% preservazione della laringe 90% quindi i risultati sono buoni risultati mescolati con tecniche diverse però questo vuol dire che mediamente i risultati sono buoni questi sono i nostri risultati che sono stati pubblicati su Edennex sia per gli stadi early che per gli stadi intermedi avanzati ed è evidente che la prima sottocategoria quella del T3 anteriore marcata qui in rosso è quella che va meglio le altre hanno più delle criticità ma hanno delle criticità soprattutto i tumori posteriori quindi questo è evidente ormai dimostrato ormai assodato quando un tumore va dietro prendete paura quando un tumore va verso davanti e anche se esce dalla laringe quello è un tumore che preoccupa mai preoccupa poco e quando va dietro però ci sono delle differenze quando vi è un effetto massa della malattia sulla ritenoide o quando vi è estensione meno di centimetro a livello sottoglottico posteriormente questo è il nostro modo di vedere questo è un update che vi do i risultati continuano comunque ad essere soddisfacenti quindi ci possiamo prendere il rischio di una chirurgia conservativa magari di tipo sovapracheale ma sempre conservativa il bilancio il fascino della laringologia oncologica per noi innamorati della laringologia oncologica è proprio questo quello del bilancio fra l'outcome oncologico e funzionale se noi togliessimo la laringe a tutti è ovvio avremmo finito la discussione già da diversi anni lo spingere nell'essere conservativi ci ha comportato negli anni degli errori da un punto di vista oncologico ecco trovare il punto di equilibrio è l'aspetto fondamentale ok riuscire a garantire un buon risultato oncologico il più ottimale possibile però anche un buon risultato di tipo funzionale garantendo il paziente respirare mangiare e poter parlare perché se facciamo le riservative poi gli lasciamo la cannula o il paziente rimane con la PEG abbiamo sbagliato forse era meglio una laringettomia totale i risultati da un punto di vista della preservazione della funzione sono buonissimi per gli stadi iniziali ma buoni anche per gli stadi intermedia avanzati come vedete da questi dati per quel che riguarda la deglutizione si sa che con i liquidi i pazienti hanno delle maggiori difficoltà non ci sono grosse differenze tra i vari tipi di interventi ma la cosa importante è che dobbiamo accettare un certo grado di broncoaspirazione cronica in questi pazienti per tutta la vita sono pazienti che bene o male inaleranno sempre qualcosa però ecco una buona selezione del paziente permette al paziente stesso di poter gestire molto bene con delle buone performance cardiopolmonari anche un'eventuale problematica di aspirazione cronica la voce è il tallone d'Achille è il punto debole di questa chirurgia gli americani fanno sempre il verso del papero quando gli presentiamo la chirurgia per sale della larige e non è è difficile fare una previsione quando un paziente chiede ma come sarà la mia voce è qui non siamo in grado di dare una risposta perché ci sono laringectomie parziali con un outcome fonatorio eccezionale altri che hanno quella voce soffiata quasi incomprensibile con delle grosse problematiche da un punto di vista soprattutto dell'intelligibilità telefonica che è un aspetto non di poco conto e quindi questo è un aspetto sul quale bisognerà lavorare da un punto di vista funzionale nel futuro noi abbiamo un 10% di difficoltà a decanurare i pazienti però risolvibile nella stragrande maggioranza dei casi con una chirurgia laser endoscopica qual è lo spazio per la totale all'interno della chirurgia parziale della laringe se la giocano un po' come dicevo i tumori posteriori ma soprattutto stanno emergendo dei nuovi dati sui T4A all'inizio vi ho mostrato come stanno partendo dei trial clinici nei quali stiamo entrando anche noi sul valutare la possibilità per alcuni T4A di fare della chirurgia parziale questo è un lavoro fatto in collaborazione con Torino e anche i nostri amici brasiliani piuttosto spinti nella chirurgia conservativa qui T4A sottoposti a chirurgia conservativa della laringe la farai vedere quali sono i dati più importanti il dato più importante è questo che il 75% dei pazienti tre pazienti su quattro sono stati dei pazienti stadiati male che sono risultati dei Pt4A ma noi pensavamo fossero dei T2 dei T3 quindi l'importanza della stadiazione l'importanza dell'imaging dello studio endoscopico e solamente il 25% dei pazienti partivano con T4A ed erano effettivamente dei T4A i risultati cosa dicono i risultati dicono in maniera chiara che se voi avete stadiato male il paziente all'inizio e quelli rompiti T4A quelli sono pazienti che avranno un outcome oncologico scadente rispetto al paziente che era stato stadiato correttamente all'inizio sia da un punto di vista del risultato oncologico sia da un punto di vista anche del risultato funzionale però ecco stiamo intraprendendo questo percorso per vedere se il tumore stadio avanzato può essere trattato con chirurgia conservativa messaggio finale fino a prova contraria e T4A rimane indicazione alla ringettomia totale non bisogna uscire da questo incontro con messaggi errati era solo per dire che stiamo esplorando questo mondo piuttosto complicato per dire che la internazione piena di chirurgia dopo radioterapia il popolo anglosassone come dicevo ci sta strizzando l'occhio teniamo in considerazione che il tumore che resiste alla radioterapia è un tumore completamente diverso più aggressivo sono cellule selezionate però ecco approfittiamo di questa situazione in cui a livello internazionale c'è una grossa crisi dopo i fallimenti di chemioradio il mondo guarda a noi perché abbiamo una grossa esperienza in questo campo e quindi è il momento insomma anche di farci valere a livello internazionale con questo tipo di chirurgia due parole nel dire che mai dire mai se cosa va male da un punto di vista funzionale abbiamo la possibilità di offrire di paracaduto a questi pazienti con laringoplastiche iniettive quando vi è un'incompetenza neoglottica con laringoplastiche iniettive anche per migliorare l'outcome di questi pazienti con la chirurgia laser endoscopica per aprire queste neoglottidi che sono chiuse perché ogni chirurgia conservativa della laringe è diversa l'una dall'altra questa è la mole di lavori che abbiamo fatto per dire stiamo attenti all'ottiamo oncologico ma siamo soprattutto anche attenti dall'ultimo periodo al risultato di tipo funzionale e soprattutto ricordiamoci che non basta operarli bisogna saperli riabilitare dopo ma adesso stiamo introducendo concetti anche di riabilitazione preoperatoria cioè cercare di preparare il paziente da un punto di vista funzionale ad affrontare questo tipo di intervento e concludo la mia diapositive con questa bandiera italiana che è una barriera italiana delle indicazioni dove noi nell'età dove vi è la maggiore incidenza di cancro della laringe è una zona ancora grigia che dobbiamo esplorare sappiamo che la chirurgia laser transorale è meglio adattabile al paziente anziano perché numero uno possiamo permetterci di rischiare un pochino di più mentre la chirurgia laser nel paziente giovane è molto più a rischio nel paziente giovane entrano in ballo tutti quei concetti di chirurgia conservativa e di competizione tra virgolette con la radio e la chemioradio che devono essere considerati con molta attenzione e il pedigree del chirurgo è quello di saper modulare l'intervento saper modulare da una chirurgia endoscopica a una chirurgia parziale ahimè una laringectomia totale ricordiamoci che la laringectomia totale a marzo del 2023 è ancora l'intervento di laringologia oncologica più diffuso al mondo quindi va bene il laser va bene il robot va bene la chirurgia parziale però una laringectomia totale mi rivolgo chi inizia questo percorso bisogna saperla fare perché è l'intervento salvavita dell'intervento più importante capito tutto dal 20 al 20 mazzo troppo tardi facciamo il corso di laringologia che è arrivato alla sua 28esima edizione quindi quasi 30 anni che questo corso va avanti che è un corso più familiare dove si viene solo operatori a novembre invece c'è il grosso master internazionale ci saranno tutti i più grandi conoscitori della materia italiana che sono che tutti noi conosciamo tra gli ospiti che dicevo ho invitato abbiamo avuto risposta affermativa da Vinit Paleri l'inglese il carimo che ormai è un nostro amico affezionato verrà Vincent Verbe Porten che è un belga che produce molto da un punto di vista scientifico e poi verrà la professoressa Verbitska che sarà la prossima presidente della European Laringological Society e poi abbiamo invitato un indiano che si chiama Prat Meshpai perché abbiamo voglia di sentire anche in quel mondo che sta esplodendo come gestiscono la laringe da un punto di vista chirurgico e non solo io vi ringrazio tanto della vostra attenzione complimenti Andy eccoci complimenti complimenti bene bravo Andy bravo bravo per la completezza bravo per i messaggi che tutti noi dobbiamo portarci a casa e soprattutto per aver puntualizzato quando hai detto prendete il telefonino fotografate e vedete e chiedete ai vostri radiologi attenzione molti colleghi radiologi purtroppo non sono particolarmente padroni questo lo dico con molta con molta come dire con molto dispiacere quindi siamo noi che dobbiamo in maniera particolare diventare anche un po' più radiologi e soprattutto cercare di capire e chiedere come giustamente hai detto tu Andy quelle che sono le cose che a noi servono molto spesso e spesso dico molto capita di leggere relazioni molto generiche questo è un dato di fatto io passerei subito la parola ai due grazie presidente io volevo far capire a Andy l'importanza della sua comunicazione è partito con 130 collegati e ha chiuso con 130 collegati quindi non se ne è scollegato nemmeno vuol dire che probabilmente Andy ci hai rapito con la tua carrellata io ho un po' di domande da farti però volevo chiedere all'uditorio che sta collegato se nel frattempo che noi formuliamo alcune domande si vuole lanciare vuole approfittare della tua presenza io ti chiederei innanzitutto dividendo la tua relazione in due parti sulla parte numero uno quando parli della rampa delle scale si può obiettivare meglio con un parametro per esempio come la spirometria per classificare la capacità polmonare che questi pazienti hanno anche per il riflesso tussigeno che è necessario perché la la storia delle due rampe di scala è un po' come dire appunto un po' troppo grossolana ci sono dei criteri spirometrici voi li adoperate vi affidate all'opneumologo prima di iniziare l'intervento partirei da questo da noi c'è una collaborazione enorme con con l'anestesia e quindi il servizio di anestesia è lui che determina un po' la valutazione da un punto di vista polmonare sicuramente l'elemento sono tutti i pazienti problematici la gran parte sono fumatori bronchiti croniche infisemi diciamo che la spirometria è l'esame principale per capire la performance polmonare di questi pazienti e quindi quello è il dato più determinante ovviamente poi c'è il fiuto del chirurgo e dell'anestesista che si rendono quello un paziente che serviva la faccia grossolanamente con la bombola dell'ossigeno è un paziente che non potrà mai fare una chirurgia conservativa della larigia e quindi però ecco non su questi casi eclatanti ma su un pochino borderline un esame spirometrico è importante è importante scusami Pasquale c'è Giuseppe Bertolini che ha chiesto di parlare quindi adesso gli autorizzo puoi parlare Giuseppe attiva l'audio sì sì mi senti ciao sì ciao ciao prego ciao 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 Andy complimenti ciao Giuseppe grazie ascolta volevo chiederti i tempi che tu reputi più corretti sulla decanulazione le OPHL3A grazie allora ottima domanda al di là della tipologia dell'intervento che sia una 2 una 1 una 3 la regola è la risposta è il prima possibile nel senso che togliere la cannula al paziente lo si deve fare un tentativo già in prima giornata cioè togliere la cannula e vedere se il paziente è in grado di avere un minimo di respirazione o senza la cannula col tracastoma aperto o addirittura anche tamponando e chiudendo incerrottando il tracastoma quello è un tentativo che lo dobbiamo il paziente cioè lui è lì per quello è lì per fare una chirurgia conservativa ed è lì per eliminare quel buco il prima possibile e noi prima teniamo sveglia quella laringe prima simuliamo una situazione di normalità fisiologica e teniamo svegli i riflessi della laringe meglio è quindi la domanda è il prima possibile è ovvio che il paziente anziano l'OPHL3 interventi conservativi più spinti o i recuperi di poradioterapia è ovvio che bisogna essere un pochino più prudenti è ottima la tua domanda perché è una domanda che puntualmente viene fatta da tutti ma questo perché? perché c'è un vulnus nella nostro percorso scientifico della chirurgia parziale perché abbiamo fatto tutto bene da quando diagnostichiamo il tumore fino a quando chiudiamo il collo all'intervento dall'in poi tutti abbiamo un pochino le idee confuse si va a seconda dell'esperienza e ti dicono aspetta ma cosa fate voi Vittorio Veneto che ne fa o cosa fa Pino Trottoriello che ne fa tante qual è la vostra esperienza? ecco qui e questo è un messaggio che lancio in un'ottica multicentrica mettiamoci assieme e vediamo di dare delle linee comuni di gestione quando riprendere l'alimentazione quando decanulare i pazienti magari creare dei percorsi distinti per tipo di intervento e per tipologia di paziente secondo me delle linee guida nostre ma poi espandibili queste le possiamo fare ma dobbiamo fare un lavoro lungo io ti vorrei fare una domanda invece inerente a un discorso sulla terapia adiuvante come detto tu bene il paziente deve essere ben stadiato e spesso e volentieri abbiamo sempre l'interrogativo su quando abbiamo un N clinico positivo ovviamente non sempre comunque poi il C corrisponde a quello che poi avremo nel P quindi anche lì poi la stadiazione e la stratificazione dell'intervento può cambiare poi la strategia terapeutica adiuvante voi quando fate poi attuate una radioterapia o radiochemio cioè seguite le linee guida dell'NCCN a tal proposito sì diciamo che l'NCCN e quindi quando ci sono multipli linfonodi o quando c'è un'extracassolarità quelle sono scusami dato che hai una connessione non stabile mi dispiace ma forse ti conviene chiudere il video scusatemi grazie quindi dicevo che l'N1 non viene radiato manteniamo diciamo le stesse indicazioni delle linee guida internazionali cioè N-multipli oppure extracapsularità sono indicazioni alla radioterapia o chemioradio post-operatoria un elemento che secondo me va considerato ovviamente è una nicchia sono i T4A però ecco T4A tumore che esce dalla laringe sottoposto a chirurgia parziale della laringe questo è argomento di discussione però ecco al momento qui vi è l'indicazione al nostro modo di vedere a effettuare una radioterapia post-operatoria mi sentite? forse è chiaro Endi forse è chiaro scusatemi non vedo altre domande dall'udio avevo un'altra domanda per te sempre dal punto di vista filosofico tu hai concluso dicendo facendo un richiamo all'ingectomia totale sì il discorso è se esiste il tumore buono e il tumore cattivo ho la sensazione che in alcune parti stiamo trasformando l'intervento buono e l'intervento cattivo cioè la conservativa è sempre buona la totale è sempre cattiva tu prima l'hai etichettata come un parziale insuccesso del chirurgo in realtà bisognerebbe appunto stressare il concetto come hai detto tu prima di sapere quando fare la totale che però quando è appropriata rimane comunque un intervento valido per il discorso della sopravvivenza perché poi tu hai citato gli insuccessi di chemio radio ma anche per la sopravvivenza negli ultimi vent'anni non è cambiato niente per la laringe nonostante il robot nonostante tutta la diagnostica MBI nonostante le tecniche meglio definite di conservativa quindi ho come la sensazione che ci sia ancora altro da scrivere questa è la domanda più più importante che ci accompagna nella quotidianità perché quante volte ci troviamo di fronte a un paziente e dici ma gli propongo una parziale o una totale e lì comincia tutto un discorso che fai dentro te stesso un discorso anche di coscienza nel dire so che se gli propongo una totale a questo paziente lo salvo so che se invece gli faccio una parziale rischio allora lì oltre a tutte le valutazioni di tipo tecnico di tipo scientifico di studio della letteratura eccetera lì c'è il guardarsi in faccia con il paziente ecco la cosa importante è essere chiari con il paziente è una cosa importante perché il paziente stesso può dirti guardi io so che rischio un pochino di più però io piuttosto di tenermi quel bucola tutta la vita io ci voglio provare ci si strinde la mano e si dice ok siamo consapevoli che perdiamo un 15-20% della nostra guarigione ma siamo d'accordo di affrontare questo percorso o lo affrontiamo assieme quindi la motivazione anche del paziente è molto importante chi lavora anche in centri diciamo di secondo terzo livello arrivano pazienti che hanno girato le sette chiese e vengono lì in ginocchio chiederti la parziale perché quel buco non lo vogliono non vogliono la laringettomia totale quindi le situazioni sono diverse quello che dici tu insomma non dobbiamo lasciarci prendere la mano ricordiamoci che insomma una buona laringettomia totale rimane un intervento che ha una sua validità da un punto di vista oncologico che è indiscutibile chiedo scusa voglio aggiungere comunque sono d'accordo con te di quello che hai detto noi non a caso proprio lunedì abbiamo operato una signora di 51 anni un infermiere di un noto ospedale della Campania che come hai detto tu ha girato tutte le sette chiese e quindi alla fine con la mia massima onestà perché bisogna essere del come dire è vero degli esperti perché questo comunque continuo a dire è molto è un intervento molto chirurgo dipendente mano dipendente ma chiaramente dobbiamo dirci che ci sono delle condizioni in cui il paziente viene viene perché dice io il buco non lo voglio viene perché dice tentiamo veda lei come deve fare io guardi nella mia massima onestà Ezio della Peruta è testimone ho fatto fare il gom all'oro non mi sono proprio messo in mezzo mi dice mi dice Ezio della Peruta guarda il gom ha deciso che in qualche modo conviene fare un tentativo chirurgico perché la paziente lo chiede dopodiché mi chiama la paziente e dico guardi faccia l'ultimo passaggio perché c'è il primario del nostro ospedale che ho sentito gli ho fatto vedere il caso e le vuole parlare benissimo il radioterapista cerca di convincere la paziente e proprio fa il massimo dei tentativi dopodiché mi chiama dice guarda allora la paziente forse la posso arrollare nei prossimi due giorni dico un attimo hai spiegato alla paziente che se il tuo trattamento fallisce l'intervento è solo totale perché bisogna essere chiari con il paziente bene la signora è ritornata in reparto l'abbiamo rivalutata mille volte tac risonanza eccetera e l'abbiamo operata l'abbiamo operata lunedì alla fine abbiamo vinto noi abbiamo fatto un intervento di ricostruzione grazie a quello che abbiamo imparato Andy cioè l'approccio modulare seguire il tumore e quindi metterci in una posizione di grande privilegio stare dietro aprire aprire seguire e quindi per noi proprio lunedì è stata una soddisfazione enorme non capita sempre così non è una regola ma questa eccezione delle volte la dobbiamo tenere ben presente volevo solo dire questo bene io non so Pasquale Ezio penso che non ci siano altre domande anche che sono rimasti collegati in 122 quindi comunque il successo è confermato scusami Vimmo volevo dire solo una cosa ancora noi per esempio lo puoi dire tu Ezio che spesso a parte come dici tu Andy facciamo un come dire un lavoro un counseling e stiamo lì a preparare i pazienti ma molto spesso facciamo soprattutto in casi particolari la fluoroscopia sì soprattutto facciamo sia in quindicesima giornata post intervento che ovviamente dopo due mesi per capire effettivamente quanto il paziente poi aspiri perché come hai detto tu effettivamente il paziente in minima parte ovviamente dipende dalla tecnica chirurgica che è stata comunque eseguita però tende ad aspirare e quello ci dà un'oggettivazione oltre alla FIS che facciamo diciamo videofluoro piuttosto volevo chiedere una cosa a Andy voi sempre inelente alle indicazioni oltre al discorso dell'età fate qualche prova di deglutizione con la logopedista presente per capire anche se il paziente aveva già delle difficoltà dal punto di vista della meccanica deglutitoria prima dell'intervento chiaramente sempre considerando il tumore che aveva il paziente certo scusate che mi oscuro allora no finora questa cosa non l'abbiamo mai fatta però in una diapo che vi ho fatto vedere stiamo diventando molto più sensibili a questo argomento assieme agli inglesi avremo voglia di iniziare quel concetto di riabilitazione preoperatoria a volte purtroppo non c'è il tempo di farlo perché vedi il paziente oggi lo deve operare martedì perché ovviamente l'oncologia la guarigione prevale sulla funzionalità a volte in questi casi però ecco mettere in campo tutta una serie di riabilitazioni preoperatorie che comportano uno studio preoperatorio del paziente funzionale in un'ottica eras like diciamo ci siamo capiti con cercare di migliorare le performance del paziente portarlo al massimo delle proprie performance da un punto di vista nutritivo da un punto di vista degli amatochimici e da un punto di vista delle performance respiratorie deglutitorie questo ci spingerà necessariamente a fare una valutazione diciamo più accurata da un punto di vista logopedico foniatrico e funzionale dove loro sono più preparati rispetto a noi per preparare meglio i pazienti e concordo con voi con la vostra scuola anche nello studio di questi pazienti nel post operatorio non solo nell'immediato ma anche nel lungo periodo cioè oggettivare con degli esami al giorno d'oggi è fondamentale per dare qualità diciamo alla nostra prestazione e per dare anche dei consigli più mirati a questi pazienti quindi sì concordo con te non è in atto ma la strada è tracciata bisognerà necessariamente farlo c'è Bertolini che ha alzato la mano Andy Andy il ha una qualche ha una qualche incidenza nell'eventualità di ipotizzare una totale piuttosto che una ricostruttiva molto spinta anche l'habitus fisico del paziente e poi concordo assolutamente sulla pre-habilitation in questi malati perché veramente dà una mano straordinaria poi nel nel post-operatorio grazie sì è ovvio che se per abitus fisico mi intendi il paziente obeso il paziente scogliotico ti dico solo una cosa abbiamo non operato non da molto una signora che aveva una problematica della colonna vertebrale importantissima con una scogliosi veramente limitante è stato proposto un intervento conservativo che è andato bene però la parte riabilitativa è stata molto complicata ad esempio dalle posture perché tu sai che in ambito riabilitativo la postura del paziente è importante se non può mettersi piegato da un lato se non può piegare la testa in un modo complica tutto quanto quindi quelli sono elementi non vincolanti però lo classificano come il paziente col bollino rosso cioè sulla cartella gli fai un bollino rosso e sai che quello è un paziente che va attenzionato dove anche la spinta riabilitativa deve essere maggiore ma questo lo vediamo nella quotidianità le nostre logopediste che ne abbiamo tre quotidianamente al reparto ci sono pazienti che iniziano a mangiare lo guardi cinque minuti al giorno e quello mangia e beve da solo senza nessun problema altri per i quali invece bisogna dedicare del tempo delle ore la colazione il pranzo e la cena allora lì bisogna identificare i pazienti che hanno più bisogno ovviamente anche l'habitus il fenotipo ha un ruolo importante certo aggiungo anche qualche volta appunto andare a vedere molto bene il tratto cervicale ci sono dei becchi degli osteofiti talmente prominente che ti possono compremettere la ricostruttiva e quindi la regolazione diventa quasi impossibile vero allora ringraziamo tutti Mimmo dai così sì sì andiamo a che io lascio la parola a voi per le conclusioni io sono più che soddisfatto ho imparato anche stasera che è completamente volenti con il presidente con i moderatori che sono stati brillantissimi e con i 130 partecipanti che adesso sono le 10 sono rimasti in 105 quindi comunque è stato un successo quindi lascio la parola a voi e vi ringrazio annunciandovi solamente che a breve la registrazione di questo web era stata disponibile come gli altri a costo zero come ha detto il presidente sul nostro sito della OI grazie e lascio la parola a voi io voglio ringraziare e poi lascio ai giovani perché siete voi il nostro futuro voglio ringraziare veramente Andy ringrazio Pasquale Capasso ringrazio Ezio della Peruta ringrazio Mimmo come ho fatto prima ma lasciatemi ringraziare il dottor Tonoli che sta facendo con il suo gruppo nel Gospa un lavoro veramente incommiabile e grazie alla come dire a questo sforzo a questi a questi brillantissimi webinar che secondo me tutti noi come diceva Mimmo Di Maria impariamo impariamo un poco di più a voi grazie e vi saluto vai Pasquale sì io sono veramente contento di far parte della OI di far parte della OI vuol dire formazione vuol dire formazione anche sul campo non posso fare a meno di ringraziare al nome del del gruppo di cui faccio parte il presidente Tortoriello perché non è scontato dare spazio ai giovani in questa schermata che vedo siamo tre under 45 su 5 io credo che fino a qualche anno fa questa cosa non si sarebbe mai realizzata poi è chiaro ci siamo scelti il top player lo simen della laringologia under 45 quindi era facile fare gol per fare contenta Andy però sono veramente contento di aver fatto le 10 stasera imparando parecchie cose portando a casa dei messaggi di positività della nostra associazione che veramente è vicina ai giovani è vicina alla formazione quindi grazie presidente grazie anche al dottore Di Maria che si fa in otto perché se li fa tutti i webinar che magari qualcuno non si collega agli altri invece lui se li fa tutti quindi è uno stacanoista niente grazie Andy grazie Ezio pure per la tua introduzione c'è tornata utile grazie davvero mi unisco anche io ai ringraziamenti complimenti innanzitutto a Andy perché c'è solo da imparare anche facendo vedendo quotidianamente e affrontando questa materia c'è solo da imparare da chi come te è poco più grande di me e di Pasquale ringrazio il professore Tortoriello per darmi ovviamente ogni giorno questi stimoli e questi diciamo messaggi di formazione come non ringraziare Mimmo che come ha detto Pasquale si fa in otto per ogni webinar che devi affrontare e per portare avanti questo gruppo campano nostro che effettivamente sta diventando tanta roba se non ci sono altre domande io lascio la parola a Andy per gli ultimi saluti beh io mi unisco ai ringraziamenti ma voglio voglio lasciarvi con un con un messaggio che riguarda il gruppo Ghost il gruppo dei giovani che non è una critica ma è uno stimolo nel senso sono un under 45 43 anni quindi mi sento quasi un giovane è arrivato il momento di non godere solo più di quote agevolate per i giovani perché molti di noi non sono solo dei ragazzi ma sono dei uomini sono dei professionisti professionisti validi che pubblicano quindi certi posti ce li meritiamo certi posti sono per noi non ci devono essere concessi perché siamo il gruppo giovani delle quote delle quote rosa quasi delle quote giovani che ci devono essere concesse perché va bene no quel posto ce lo meritiamo perché abbiamo un determinato valore quindi secondo me puntare sulla qualità puntare sulle persone forti sulle persone che tirano è il momento insomma di alzare la testa magari qualche scapellotto arriva comunque arriverà sempre però ecco certi posti ce li meritiamo non ci devono essere solamente concessi e con questo ovviamente io vi ringrazio ringrazio il presidente ringrazio la OI ringrazio tutti voi per questa opportunità bene allora grazie a tutti a me tocca spegnere la tv quindi vi auguro la buonanotte e appuntamento al prossimo webinar buonanotte ciao buonanotte 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 ciao